Un buon pomeriggio prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca purtroppo perché una 31enne ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A14 che ha coinvolto un mezzo pesante ed una autovettura. Un'altra donna è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Mazzini di Teramo, il servizio di Paolo Renzetti. E di una vittima, una ragazza di 31 anni, è un ferito gravissimo il tragico bilancio di un incidente stradale accaduto questa mattina poco prima delle 11 sulla careggiata nord dell'autostrada A14 all'altezza del chilometro 323 tra i caselli di Val Vibrata e Giulianova e che ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura dove si trovava la vittima. Secondo una prima sommaria ricostruzione, sembra che la gomma di un camion improvvisamente scoppiata sia andata a travolgere l'auto. Imediati soccorsi arrivati sia dall'Abruzzo che dalle vicine Marche sul posto sono confluiti in massa i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Autostradale oltre a personale del settimo tronco di Pescara della società Autostrade. Sul luogo del tragico evento si circola ad una sola corsia con code in direzione del capoluogo adriatico che hanno raggiunto e superato anche cinque chilometri a causa del traffico intenso dei vacanzieri. Sono gli uomini della Polizia Stradale ora a condurre le indagini per chiarire le cause dell'accaduto. La persona ferita, una donna, è stata trasportata all'ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni sono critiche. I soccorsi sanitari sono stati coordinati dalla sala operativa del 118 del capoluogo a Prutino. Sempre restando sull'incidente mortale avvenuto questa mattina sulla A14, la vittima, come avete sentito, di 31 anni, si chiama Gloria Duranti, e un avvocato di Salò. Ovviamente sul suo corpo sarà effettuata la ricognizione cadaverica. Il padre e il marito della giovane, anche lui seduto sul sedile posteriore, prima di essere proprio travolti da questa ruota impazzita. La famiglia dunque proveniva dalla Lombardia ed era diretta in Puglia. Come detto, sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118, ma per la giovane non c'è stato nulla da fare, anche perché l'impatto l'ha uccisa sul colpo. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato i rilievi e dirottato il traffico sulla carreggiata Nord il tempo necessario per il ripristino della sede stradale. Cambiamo argomento, adesso andiamo a Pescara, perché l'assessore regionale Donato Di Matteo ribadisce il secco no alla sostituzione dell'assessore del comune di Pescara Giuliano Diodati nell'ambito di quello che è il rimpasto della giunta Alessandrine. Noi abbiamo ascoltato proprio le parole dell'assessore regionale Di Matteo. Assessore Di Matteo, un ferragosto di lavoro, al comune di Pescara c'è questo rimpasto che tante polemiche e tanti problemi sta creando. L'uscita, la probabile uscita dell'assessore Giuliano Diodati ha visto da parte vostra, da una componente del PD, la netta contrarietà. Ma io dico, intanto è uno dei tanti rimpasti che in tre anni si sono fatti a Pescara. La gran parte di questi rimpasti non si capiscono dove conducono, qual è la strategia, qual è la qualità e il merito per chi va a sostituire persone che già ci sono. E anche nella sostituzione non si capisce per quale motivo vengono tolti alcuni rispetto ad altri. La verità è che i cittadini di Pescara non capiscono quello che sta succedendo. Non dobbiamo dare un'immagine di un continuo giocare sulle poltroncine, i poteri. Noi dobbiamo dare una prospettiva di grande crescita per questa città. Io credo che Giuliano Diodati sia un riferimento di questa città ed è una persona che sicuramente dovrà rimanere dentro la Giunta e sarà capace, così come ha fatto nei tre anni, di rappresentare una parte della città, quella del centro, delle parti più centrali della città che guardano in lui come un professionista di qualità. Assessore, se però dovesse andare via Diodati, dovesse uscire dalla Giunta, voi confermate di essere pronti a lasciare le varie maggioranze dalla Regione fino al Comune di Pescara? Io dico sempre, in ragione delle gravità delle malattie bisogna fare le terapie. Se una malattia è grave bisogna intervenire con terapie pesanti. L'uscita di Diodati è una cosa gravissima, una malattia pesantissima a cui si dovrà rispondere con un atteggiamento duro e impegnato. Rimaniamo a Pescara perché il consigliere comunale della lista Teodoro per Pescara, Massimiliano Pignoli, continua a seguire una vicenda che abbiamo analizzato nei giorni scorsi, ovvero quella dei residenti delle palazzine di via Lago di Borgiano che sono stati sfollati. Consigliere Pignoli, lei ha passato il giorno di Ferragosto presso un hotel di Pescara con gli sfollati di via Lago di Borgiano, un atto tutt'altro che simbolico. Sì, in questi giorni di feste dove si pensa di stare insieme ai propri cari e alle proprie persone ho ritenuto necessario, ho visto anche la mia azione politica che è sempre a favore delle persone bisognose, passare un momento a salutare gli evacuati di via Lago di Borgiano, che non è che bisogna stare loro attenti soltanto in momenti difficili alla loro vita, ma secondo me anche in questi momenti storici dove c'è festa, c'è qualcosa, loro invece non stavano festeggiando assolutamente nulla. Voglio ringraziare pubblicamente l'hotel Holiday che ha preparato un ottimo menù a base di pesce, ma questo certo non può essere di consolazione perché ovviamente la casa non ce l'ha più da un mese. Queste persone che sono fuori di casa, come diceva lei, da diverso tempo, ha parlato con alcuni di questi inquilini qual è la situazione, qual è anche l'umore di queste persone? Ma con l'incontro che abbiamo avuto per la questione dell'aggiunta al Comune di Pescara, con il sindaco è uscito anche il problema di via Lago di Borgiano, lui ha detto che ha già avuto un incontro bilaterale con Lance per cercare eventualmente di acquisire appartamenti nuovi e darli a queste persone. Si stanno aggiustando velocemente anche altri appartamenti, case popolari. Spero che tra settembre e primi d'ottobre sia tutto sistemato e che per loro trascorrere questo tempo in albergo sia fra qualche mese soltanto un vecchio ricordo. In Abruzzo proseguono gli interventi per bloccare i tanti focolai nelle province di Teramo, Chieti, Pescara e L'Aquila. Maggiori criticità registrate a Schiavi d'Abruzzo proprio in provincia di Chieti, nella parte sud della nostra regione, con l'evacuazione di alcune famiglie. Vediamo. Continua l'emergenza incendi su ampie zone del territorio regionale. Nessuna delle quattro province sembra in questi giorni essere immune dal rischio di roghi, che si susseguono e rendono di conseguenza ancora più difficile il compito dei vigili del fuoco che vedono aprirsi nuovi fronti col passare dei giorni. In provincia di Teramo prosegue l'incendio a chi ha colpito la frazione di Magnanella. Nelle ultime ore ha raggiunto un'ampiezza massima di 100 metri, interessando la parte più interna di un ripido canalone di conifere, in una zona non accessibile con i mezzi a terra. Le altre zone colpite sono quelle di Cugnoli e Molviano a Campli, di Giulianova, di Tortoreto e di Piano della Lenta, e con trada a mezzanotte a Teramo. Durante la giornata nel Teramano si sono susseguiti costantemente i diversi interventi a terra e via aerea dei mezzi di soccorso di vigili del fuoco e protezione civile. Le operazioni dall'alto, con elicotteri e Canadair, sono eseguite da un DOS, direttore delle operazioni di spegnimento, del comando dei vigili del fuoco di Teramo. Sul campo continuano ad operare senza sosta una squadra di nove uomini del comando dei vigili del fuoco di Teramo, un autobotte, un'autopompa e un fuoristrada con un modulo antincendio, oltre a diverse squadre della protezione civile. Durante la notte è stato comunque garantito un costante presidio di controllo con squadre antincendio. Nel corso della mattinata di ieri hanno lavorato sul posto anche un elicottero del nucleo dei vigili del fuoco di Pescara, sostituito nel pomeriggio da un Canadair, che è stato successivamente dirottato a schiavi d'Abruzzo, dove un vasto incendio sta minacciando le abitazioni. Situazione grave anche nel Chietino, con focolai nelle zone tra Carunchio e Palmoli, mentre proprio a schiavi d'Abruzzo un ruogo di origine dolosa ha raggiunto i 7 chilometri di estensione. Il sindaco Luciano Pilluso si è visto costretto a predisporre l'evacuazione di alcune famiglie, collaborando con volontari di protezione civile e vigili del fuoco e carabinieri. È stato richiesto anche l'intervento di un'ambulanza per soccorrere un anziano che ha accusato dei problemi alle vie respiratorie a causa dell'aria resa satura dalla combustione. Nell'Aquilano roghi anche a Roccapie e Canistro, forse di origine dolosa. Le fiamme si sono estese fino alle abitazioni, rendendo necessarie le manovre di chiusura della strada statale 690. Le uniche buone notizie invece arrivano dalla provincia di Pescara, dove è stato domato l'incendio che ieri pomeriggio ha interessato all'anno. Il sindaco di Rapino denuncia la Telecom per interruzione di pubblico servizio. Da quasi un mese il municipio e i residenti del centro storico, spiega Rocco Micucci, sono senza collegamenti telefonici. Nonostante le quotidiane richieste di intervento, il problema persiste ed è follia che l'ente pubblico più importante del territorio debba rivolgersi ai numeri verdi, perdendo intere giornate nell'attesa che qualcuno si degni di rispondere. Sembra di rivivere, continua Micucci, l'incubo di questo inverno, quando l'Enel ci ha lasciati senza fornitura di energia elettrica per giorni e giorni, senza fornire né risposte né assistenza per problemi risolvibili in 15 minuti. Il danno più grave, prosegue il primo cittadino di Rapino, lo subiscono in questo momento gli anziani, perché essendo in meno avvezzi alle nuove tecnologie, sono praticamente isolati. Perciò, fa sapere Micucci, ho presentato un esposto denuncia al comando dei carabinieri locali per verificare se a seguito del comportamento di questa azienda, che ha praticamente il monopolio delle comunicazioni telefoniche, ci siano fatti penalmente perseguibili, perché l'interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità è un reato previsto dall'articolo 331 del codice penale. Mi aspetto, conclude, che le forze dell'ordine facciano il loro dovere fino in fondo. Nel frattempo, mi sono rivolto anche al Corecom per chiedere la tutela dei miei cittadini. Cambiamo argomento adesso, Abruzzo agli ultimi posti della classifica nazionale di capacità di avanzamento della spesa pubblica del programma di sviluppo rurale 2014-2020. La denuncia arriva dal presidente della Commissione di Vigilanza, Mauro Febbo. Ancora pessimi dati. Per la terza volta consecutiva il report trimestrale della rete rurale nazionale MIPAF, Ministero delle Politiche Agricole, colloca l'Abruzzo tra le ultime regioni con uno sconsolante 5,62% in termini di capacità di avanzamento della spesa pubblica del programma di sviluppo rurale 2014-2020. I fondi europei destinati all'agricoltura adesso rischiano concretamente di tornare indietro poiché non impiegati e spesi dalla regione Abruzzo. Sono dati che certificano il fallimento del governo D'Alfonso e del suo delegato alle politiche agricole. Questo è il commento del presidente della Commissione Vigilanza e consigliere regionale Mauro Febbo che sottolinea come sono disponibili online le performance di spesa delle regioni d'Italia sui rispettivi programmi di sviluppo rurale 2014-2020 aggiornate al 30 giugno 2017. E dopo aver letto i dati, gli andamenti dei bandi e le statistiche riferite alla nostra regione c'è veramente da preoccuparsi visto che siamo ancora lontani nello scongiurare il disimpegno e dato che l'Abruzzo è posizionato al quintultimo posto. Infatti, dopo tre anni e mezzo di programmazione del PSR questo esecutivo regionale è stato capace di spendere solo il 5,62% dei 432 milioni di euro circa messi a disposizione dall'Europa nel settore primario. Un altro dato significativo continua Febbo è il rischio disimpegno che supera l'11% vedendo l'Abruzzo come una delle poche regioni d'Italia con una percentuale così alta quindi continua la discesa in termini percentuali della regione allontanandoci sempre più dagli obiettivi annuali che la Commissione Europea indica. A riprova dei miei continui allarmi e preoccupazioni continua Febbo vi sono anche i richiami ufficiali dei tecnici di Bruxelles come si evince dal verbale del Comitato di Sorveglianza del PSR Abruzzo riunitosi a Pescara lo scorso 4 luglio dove vengono evidenziati le criticità e gli enormi ritardi presenti nell'attuare e spendere i fondi del programma di sviluppo rurale della regione. Così come siamo ancora in attesa di vedere conclude dopo ben un anno la graduatoria del bando pacchetto giovani anche questa una storia senza fine praticamente passerà anche il 2017 e il mondo agricolo non riceverà un solo euro dal programma di sviluppo rurale. dal 24 al prossimo 26 agosto in programma il Campli Music Festival tre giorni di musica diffusa sul territorio con concerti e interpreti di primo piano tutto ad ingresso libero concerto conclusivo di James Senese e Napoli Centrale la band che ha collaborato con Pino Daniele. Dal 24 al 26 agosto Campli riparte anche con la grande musica con il festival Campli Music Festival. Sì abbiamo voluto creare un contenitore musicale ma anche culturale con dei concerti che si faranno il 24 le 26 a Campli e il 25 a San Donorio con musica diffusa quindi tramite la musica vogliamo rilanciare l'economia locale e cercare di valorizzare non solo artisti di un certo livello come James Senese e Napoli Centrale che conosciamo tutti ha collaborato con Pino Daniele al riguardo ci sarà anche un omaggio al grande artista che è venuto a mancare un po' di tempo fa ma soprattutto vogliamo valorizzare anche i talenti del nostro territorio quindi un'iniziativa molto importante voglio ringraziare il BIM che ha contribuito a questa manifestazione e l'associazione Samarcanda che provvede all'organizzazione dell'evento. Presidente dell'associazione Samarcanda Gabriella Sperandio cosa prevede il programma del Campli Music Festival? Innanzitutto il filo conduttore di questi tre giorni di musica appunto è Napoli Napoli che si sposta e arriva fino ai confini del regno borbonico insomma l'ultima parliamo di Civitella quindi siamo ai confini se è vero che si va a nord per trovare fortuna è anche vero che si viene a sud per trovare l'anima in questo contesto diciamo che siamo molto fortunati perché artisti del calibro di James Enese che ci sarà il 26 agosto l'anima ce la portano ce la porta a domicilio Continuiamo ancora con l'arte e gli eventi perché il comune di Spoltore propone la 34esima edizione dello Spoltore Ensemble ovviamente quest'anno 2017 il 18 e il 19 agosto ovvero domani e dopodomani gli artisti di Spoltore Ileana di Damaso Luigi Vitali Francesca De Luca e Antonio Matarazzo saranno i protagonisti di Viaggio nell'arte con esposizioni personali video proiezioni installazioni teatro concerti e cabaret partendo dal largo largo della porta passando per il centro storico per la casa della cultura e la biblioteca ad aprire la galleria d'arte all'aperto il 18 agosto ovvero domani alle ore 19 in piazza di Marzio largo della porta saranno le coinvolgenti video proiezioni delle opere dei quattro artisti sulle pareti della chiesa dunque un'esperienza plurisensoriale che coinvolge tutta la cittadinanza di Spoltore per portare avanti ovviamente la promozione del territorio e da domani fino al 20 di agosto al teatro cinematografico a San Demetrio Nevestini all'Aquila si svolgerà lo spettacolo Il colore del pane di Giancarlo Gentilucci due storie di ragazzi che si intrecciano con la drammaticità dei nostri anni ma che lasciano un forte messaggio di speranza un linguaggio semplice per avvicinare il pubblico a tematiche difficili Germano Adorazio Il 18, 19 e 20 agosto partirà la seconda edizione del colore del pane uno spettacolo che parla di ragazzi di seconda generazione sia di nascita che di società in particolare saranno portate in scena due storie quella di una bambina nata poco prima del terremoto dell'Aquila e poi cresciuta in una città nuova e sdradicata dalle sue tradizioni familiari la stessa terra di nessuno in cui vive un altro ragazzo un giovane albanese figlio di emigrati il quale non ha radici ma sopravvive nella nuova città e nel nuovo tempo con l'autore abbiamo pensato di dedicare questo spettacolo all'opportunità che può avere lo spettatore di comprendere che questi giovani oltre a vivere i drammi di una società contemporanea che non è delle migliori noi vogliamo invece dimostrare che è una generazione che all'interno ha tutta una serie di conoscenze di sapienze per cui alcuni di questi giovani hanno già le idee chiare coltivano le proprie passioni hanno sicuramente la possibilità di costruire un nuovo futuro diverso da quello che in realtà la realtà gli offre noi abbiamo cercato di dare un taglio ironico per quanto possibile a tutta la storia e anche l'ambientazione di fatto è un pochino paradossale adesso non sveliamo molto però è chiaramente giocata sul limite tra l'onirico e il fiabesco cioè non è una storia raccontata come dire con ritmi da telegiornale tutt'altro e si spera quindi che sia anche una cosa gradevole fruibile in maniera in qualche modo leggera abbiamo cercato di portare un tema che certo leggero di per sé non è su un tipo di linguaggio su un tipo di frizione da parte del pubblico che potesse essere in qualche modo molto più agile molto più snello in maniera tale anche da in qualche modo veicolare dei messaggi che tipicamente trovano un po' di resistenza da parte di un certo tipo di pubblico riuscire a veicolarli tramite una così una forma un po' particolare che speriamo piaccia insomma Il colore del pane giovani visionari in viaggio di Giancarlo Gentilucci si svolgerà nell'ambito del teatro cinematografico al lago di Sinizio a San Demetrio Nevestini e apriamo adesso la pagina dello sport ovviamente partiamo dal Pescara perché nell'ambito dell'operazione che ha portato Cristiano Biraghi ad essere ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina a Pescara arriva l'esterno Jaime Baez proprio dalla formazione gigliata intanto Atalanta e Udinese corteggiano Francesco Zampano l'esterno bianco-azzurro ma la società è decisa ovviamente a non svendere il terzino oggi intanto amichevole l'ultima prima del campionato con l'Avezzano allo stadio dei Marsi ceduto Biraghi alla Fiorentina per il peschiare ancora a tempo di uscite anche con la consapevolezza però di dover rifinire la rosa con cui affrontare il campionato che parte domenica 27 le attenzioni della massima serie sono soprattutto per Francesco Zampano l'esterno è appetito da Udinese Atalanta ma con i bergamaschi dopo che l'affare Pessina sembra sfumato i rapporti potrebbero raffreddarsi il Delfino dalla cessione di Zampano vorrebbe monetizzare cedendolo a titolo definitivo le pretendenti invece puntano come spesso accade in questo mercato a prestiti con riscatti che diventano possibilità o obblighi solo a distanza di 12 pesi la società bianca-azzurra chiede almeno 2 milioni più relativi bonus per lasciar partire Zampano anche nell'ottica di non svendere un calciatore che innanzitutto piace a Zeman e poi rappresenterebbe un valore aggiunto in un organico di serie B è evidente che il Pescara non può seguire la stessa linea anche perché avrebbe già trovato il naturale sostituto si tratta di Petar Golubovic 23 anni di proprietà della Roma ma con esperienze in prestito a Novara Pistoia e Pisa in difesa la Cremonese sembra aver superato tutti nella corsa alla centrale della Ternana Biagio Meccariello che era entrato anche nei radar del Brescia la vera novità però è l'arrivo in biancazzurro di Jaime Baez dalla Fiorentina proprio nell'ambito dell'operazione che ha portato Biraghi in viola l'esterno offensivo dopo l'esperienza allo Spezia che avrebbe voluto riaverlo ancora sta per sbarcare in riva l'Adriatico per mettersi a disposizione proprio di Zeman che potrebbe esaltarne le caratteristiche 22 anni per Baez che nasce come ala sinistra ma può giocare anche spostato sul fronte opposto rimangono sempre in piedi i discorsi legati alle altre uscite tipo quella di Benalì che nel mirino della Sampdoria da tempo anche se il continuo temporeggiare dei blucerchiati ha lasciato spazio all'inserimento del Bologna che dopo essersi assicurata Palasio vorrebbe anche Libico per completare il pacchetto avanzato per cercare di abbassare la quota che esci Felsine potrebbero mettere sul piatto della bilancia Filippo Falco di proprietà proprio Rosso Blu è rientrato in Emilia dopo la stagione esaltante con la maglia del Benevento intanto questo pomeriggio per il Delfino l'ultima amichevole prima dello start del campionato al Dei Marsi di Avezzano la sfida un grande ex come Federico Giampaolo che non più tardi di 24 ore fa si è seduto ufficialmente sulla panchina marsicana sarà un test per capire a che punto è la squadra in attesa delle operazioni last minute per completare anche i bookmakers già danno insieme al Palermo in prima fila nella corsa alla Serie A e in Serie C invece andiamo in casa Teramo perché da ieri Antonino Asta ha visto il suo gruppo allargato di due elementi che sono aggregati in prova proprio alla formazione bianco-rossa intanto l'allenatore fa il punto anche sulle prime due giornate di campionato e sui primi due avversari del Teramo il Mestre e il Vicenza due giovani in prova e almeno un paio di colpi ancora da assestare per vedere un Teramo completo nella prima giornata di campionato i due ragazzi su cui da ieri Asta può contare sono Gabriele Tittarelli e Sasha Martinez il primo attaccante Jesino l'anno scorso ha fatto le fortune del Fabriano Cerreto in eccellenza con 17 reti 30 gare di campionato peraltro fu un suo gol al Valle Anzuca di Francavilla impattare l'iniziale vantaggio giallorosso di Milizia Martinez invece è calcisticamente cresciuto nella scuola di formazione francese di Claire Fontaine ad aste alla dirigenza il compito di visionarli e nel caso offrire loro la possibilità di giocare una stagione nella terza serie nazionale Tittarelli sarebbe il vice Foggia mentre il diavolo è ancora alla ricerca di un centrocampista di struttura da affiancare ai già presenti Ilari Amadio De Grazia Paolucci Varas non c'è dubbio che comunque in mezzo al campo è un qualcosa dove ancora ci stiamo un po' pensando come alternativa di avere un giocatore strutturato perché certe gare si mettono in una certa maniera dove trovi questi lanci lunghi degli avversari sulle palle native questa categoria si decide molto quindi c'è solo Ilari un pochino che di testa un po' ci va come strutture gli altri ma è una scelta che ci stava per come è nata la squadra quindi sì è giusta come analisi la tua e quindi sappiamo che comunque ogni squadra ha i suoi pregi difetti questo non c'è dubbio noi cerchiamo di aumentare possibilmente i nostri pregi in base ai giocatori che ho a disposizione conosco entrambi gli allenatori conosco entrambi le squadre già quelle che hanno come rose i giocatori e sono due buone squadre sia in un verso nell'altro il mestre oltre l'entusiasmo che avrà si porta dietro degli acquisti come Neto Perera come Sodigna e quindi giocatori di categoria ma in verità guarda non mi preoccupava la squadra forte non forte tutto è la situazione che si è creata delle due partite fuori casa e l'altra riposi perché è questo sappiamo questo girone che girone è ogni partita sarà difficile e quindi non stavo a vedere ecco sinceramente l'unica cosa che avevo un po' è giocare la prima in casa ecco questa è una cosa dove se vi è fatto piacere però non è possibile scendiamo adesso in serie D andiamo in casa dell'Aquila perché sono ufficiali due arrivi in casa rosso-blu perché l'Aquila ha tesserato ieri il difensore centrale classe 1985 Nicolas Ibogio che vedete sulla sinistra proveniente dal Matelica sulla destra invece si tratta di un ritorno perché è ufficiale anche il ritorno in maglia rosso-blu del centrocampista classe 1996 Lorenzo Ranelli con l'Aquila nella stagione scorsa che ha rinnovato proprio il suo contratto con la società per il prossimo campionato e dunque sarà a disposizione del tecnico Battistini sempre in serie D andiamo ad Avezzano perché davvero ha del clamoroso in casa bianco-verde è arrivato il terzo allenatore stagionale si tratta di un nome noto per gli appassionati di calcio abruzzese e non solo l'ex attaccante della Pescara Federico Giampaolo che è stato presentato questa mattina allo stadio dei Marsi il neo allenatore si siede su una panchina che dall'inizio dell'estate ha visto già le brevi parentesi prima di Umberto Marino e poi quella di Antonio Aiello ironia della sorte Giampaolo inizierà la propria avventura sulla panchina marsicana proprio contro quella che è stata la sua ex squadra il Pescara oggi pomeriggio nell'amichevole delle 18 Giampaolo avrà un compito non semplice ovvero quello di puntare all'alta classifica dopo la campagna rafforzamenti della società del presidente Paris che ha portato in bianco-verde i giocatori del calibro di Branicchi Dosantos e Rullo e scendiamo ancora per parlare di Lanciano perché far volare alta la maglia rosso-nero è l'obiettivo del nuovo staff che nasce dalla collaborazione tra Lanciano Accademia Calcio Frentana e Spallanciano per rifornare il settore giovanile vediamo Giovani e novità con Lanciano 1920 che rifonda anche il settore giovanile nato dalla collaborazione tra Lanciano Accademia Calcio Frentana e Spallanciano le formazioni juniores allievi giovanissimi ed esordienti avranno ognuna due tecnici ma in nessuna formazione lavoreranno le stesse persone questa l'importante novità i componenti dello staff sono Giuseppe D'Aloisio Gianluca Rosato Thomas Di Campli Valerio Valerio e Alberto Iezzi che già facevano parte dell'Accademia Camillo Di Biase proveniente dal Castelfrentano donato Dali Carnasso dalla Spal Giuseppe Saltarella dal Fossa Cesia della dirigenza del settore giovanile faranno invece parte Leonardo Di Florio in qualità di responsabile tecnico e Andrea Dorsogna investito del ruolo di direttore organizzativo il presidente del club rosso-nero Fabio De Vincentis per il settore giovanile innanzitutto già poter dire che ci saranno tutte e tre le categorie quindi sia i giovanissimi che gli allievi che la junior questo mi inorgoglisce tantissimo speriamo adesso di essere altrettanto competitivi anche per quello che possono essere le squadre che andiamo ad allestire da adesso a pochi giorni ma confido tanto diciamo sia nel nuovo direttore tecnico che conosce bene sia la piazza ma conosce bene pure tutte e due le società che abbiamo inglobato all'interno del Lanciano Calcio e poi ci serve pure un pizzico di fortuna di poter scegliere qualche ragazzo valido che possa avere anche un giusto percorso anche con la prima squadra del Lanciano Calcio perché far indossare la maglia rosso-nero del Lanciano Calcio ai nostri nuovi e nuove eleve potrebbe essere qualcosa di importante poi se ci scappa qualche cosina ancora più importante e quindi poter dare una carriera veramente importante a qualche Lancianese ci sarebbe tanto tanto da divertirsi sia da parte della società ma anche da parte di tutta la città stessa e questo era anche il nostro ultimo servizio il TG6 torna questa sera puntuale alle ore 19 con la seconda edizione per il momento è tutto vi ringrazio dell'attenzione vi auguro un buon proseguimento di giornata a Grazie a tutti.